L'incontro di ieri doveva essere un tavolo di mediazione, visto che i dimissionari avevano chiesto di rientrare. Noi dopo varie consultazioni avevamo pensato che poteva essere giusto il loro rientro e utile soprattutto per il carnevale. Ovviamente ognuno di noi doveva fare un piccolo passo noi accettavamo il rientro come consiglieri quindi rinunciando alle cariche. Nella giunta esecutiva che sono le cinque persone che si incontrano maggiormente avevamo bisogno di una serenità che si era persa quindi ci sembrava una richiesta non poi così drammatica ma comprensibile però potevano visto che tutti amiamo il carnevale potevano comunque contribuire alla realizzazione del nuovo carnevale. Purtroppo non hanno accettato questa nostra proposta e quindi il tavolo diciamo che non è andato come speravamo. Tutto questo comunque del bene alla carnevalesca e al carnevale di Fano non ha fatto sicuramente. Non c'è dubbio.